Non è un parcheggio, è l'entrata, un parco. Dovrebbero lavorare, sistemare, però è lasciato un po' così. Abusivo, non a pagamento, vicinissimo al centro. Non è un parco e non è un parcheggio, questa è la verità. E i cartelli che vedete non dovrebbero essere lì. Ce lo racconta il comune, cui abbiamo chiesto oggi un riscontro sulle interviste raccolte ieri dalle mamme e da molti lavoratori che quotidianamente parcheggiano qui. Se l'asilo è stato spostato, il complesso San Rocco ospita ancora la scuola dell'infanzia comunale Andrea Palladio, ma il parcheggio non sarebbe nemmeno della scuola. Il comune ha venduto l'area alla fondazione Cari Verona, a diritto di servitù in quella zona, ovvero di passaggio per i mezzi di sua proprietà come il pulmino o il furgone che porta i pasti e i bambini, ma nulla di più. Nemmeno le mamme vi potrebbero parcheggiare. I cartelli che vi abbiamo mostrato sono vecchi, semplicemente i nuovi proprietari, la fondazione appunto, non li hanno rimossi. E qui torna la domanda, quale futuro per quest'area di fatto oggi privata? La fondazione è da sempre impegnata a sostenere progetti di ricerca, formazione e cultura, ma ad oggi quello che vedete rimane di fatto uno spazio usato abusivamente. E allora la prossima tappa sarà ascoltare proprio la fondazione.